La mafia e la corruzione che stanno devastando il nostro Paese, la stanno devastando e il confine tra mafia e corruzione è un confine, come lo stiamo percependo in questi giorni, assolutamente valicabile, assolutamente inesistente, perché in fondo sono figlie, seppure a dimensioni diverse, della stessa concezione della vita sociale, cioè l'idea della violazione del principio e delle regole sulle quali si fonda la democrazia. E' un Paese come il nostro che ha non più metà di se stesso in mano alle mafie, ma una parte consistente perché ogni volta scopriamo che c'è una regione che è stata investita dal fenomeno mafioso e anch'essa è esposta ad un rischio democratico. Ecco perché a Vittorio questa forse sarebbe apparsa una stagione in la quale era più difficile essere ottimisti, per la concausa determinata dalla compresenza di questi fenomeni. Se voi leggete il degrado in corso e non da oggi della politica e non solo da una parte della politica, troverete alla fine esattamente queste due ragioni, il pensarsi da soli, cioè non parte di una comunità e il pensare solo a se stessi. A quella domanda, cioè se nella cupezza di questo tempo sia possibile una risposta ottimistica, certamente Vittorio non mi avrebbe risposto come in quella celebre frase di Shakespeare che dice «Andiamo incontro al tempo così come esso ci cerca». Vittorio avrebbe risposto con queste sue parole «essere ottimisti non vuol dire credere che le cose vadano bene, anzi vuol dire sapere che spesso vanno molto male, ma che è possibile, ed è necessario, aggiungo io, tanto più oggi, darsi da fare per cambiarle». A Vittorio piacevano molto più le domande che le risposte. Siccome anche a me piacciono più le domande che le risposte… Bertrone, le piacciono le domande? La possiamo fare anche noi? Il... di questo grande fotografa... Il professor... passiamo una... C'è ancora il professor... C'è ancora il professor... Ancora sia a Bologna sia a Roma... Se lo faccio dire per quella disgraccia... Il professor... Di nuovo...